Un saluto amici telespettatori e musica maestro è proprio il caso di dire perché qui oggi con me Gabriele Gobbo su FWG Tech parleremo di intelligenza artificiale e musica. FWG Tech, la tecnologia in tv, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Bene, rientrati in studio amici telespettatori, un'altra puntata di FWG Tech. Io sono Gabriele Gobbo e sono con voi da tantissime edizioni di FWG Tech. Vi ricordo che trovate molte cose su FWG Tech.it ma andiamo subito al sodo di questa puntata. Intelligenza artificiale e musica. Non prendete paura perché non parliamo della famosa Skynet di Terminator in cui le macchine con una grossa intelligenza artificiale centrale prendevano sopravento nel mondo e ci comandavano tutti se non di peggio. Parliamo di sistemi molto avanzati perché negli ultimi mesi la tecnologia è davvero corsa che imparano quello che facciamo, lo migliorano e ci aiutano a farlo. Il più famoso ovviamente è l'intelligenza artificiale che ormai usiamo in tantissimi per scrivere dei testi. Genera i testi come un essere umano. Addirittura in una chat si può interagire e fa domande e risposte. Soprattutto risposte ma è capace di generare dei testi, articoli, può fare produzioni, riassunti. Insomma con l'intelligenza artificiale che funziona così. Miliardi, triliardi di dati all'interno o più algoritmi che macinano tutto e cercano di dare la miglior risposta possibile. Detta così può essere banale ma se guardiamo anche solo indietro di un anno risultati del genere ce li dimentichiamo e se guardiamo indietro di soli 5 anni e guardiamo il traduttore di Google ci viene da ridere per come traduceva che traduceva ancora meglio di 10 anni prima. Ad ogni modo, intelligenza artificiale o parti di essa o piccoli algoritmi che vengono utilizzati per fare altro. In questo caso quale altro? La musica. Sono già usciti dei tool per generare musica. Se cercate su Google ne trovate parecchi. Alcuni a pagamento, alcuni a prova gratuita. Insomma c'è un po' di tutto. Oggi per questo sarà con noi il maestro Elia Andrea Corazza a cui faremo alcune domande perché proprio di musica si occupa e poi scopriremo perché. Io volevo semplicemente iniziare la puntata dicendovi che secondo me in tutti gli ambiti della nostra vita dell'intelligenza artificiale sarà e andrebbe e andrà utilizzata come assistente per aiutarci a lavorare meglio, per aiutarci a prendere delle decisioni giuste, per aiutarci a fare quei compiti molto ripetitivi che solo l'intelligenza artificiale con la grande potenza che hanno i sistemi può fare. Perché se vogliamo tradurre bene un testo possiamo passare all'intelligenza artificiale e poi avremo meno da sistemare perché con il traduttore di cui abbiamo parlato prima gli errori sono tantissimi con l'AI, no eccetera eccetera. Ma tantissime cose saranno sempre e solo per aiutare noi. E ovviamente nuovi lavori arriveranno, arriverà il lavoro di chi è esperto in intelligenza artificiale, in uso, in applicazione dell'intelligenza artificiale nei nostri ambiti eccetera eccetera. Ma diamo il benvenuto al maestro Elia Andrea Corazza, ma dici un po', di cosa ti occupi? Ciao Gabriele, sono Elia Andrea Corazza, sono musicista, sono un compositore, un pianista, un bioressore d'orchestra e un musicologo. Sono anche un musicista elettronico e pubblico le mie composizioni sotto lo pseudonimo Eli Jax. Insegno al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Ecco, abbiamo inquadrato il nostro amico Elia. Allora, dicevo che l'intelligenza artificiale ci potrà aiutare. È ovvio che, soprattutto oggi, in cui l'ausilio dei computer è molto utilizzato nella produzione musicale, l'intelligenza artificiale sicuramente potrà migliorare alcuni processi. Personalmente credo che l'arte sarà davvero difficile da far, come dire, sarà difficile umanizzare l'intelligenza artificiale affinché faccia dell'arte con la maiuscola. Oggigiorno esistono davvero per l'arte tantissime applicazioni. Le immagini si fanno davvero scrivendo qualcosa in uno di questi servizi. Secondo me, ad oggi, possono essere belle, possono essere godibili, può essere utile generare dell'immagine o della musica per dei lavori quotidiani. Pensiamo, ad esempio, ai sottofondi musicali di alcune produzioni video. video, pensiamo magari anche solo a regolare il messaggio, che è quella parte in cui tutti i suoni vengono messi a regola d'arte, affinché poi nelle nostre orecchie risultino tutti ben formati e la musica sia molto godibile. Lì ci sono davvero delle persone tanto esperte che lo fanno. Con l'intelligenza artificiale e le persone esperte messe assieme, magari accorciamo i tempi perché l'intelligenza artificiale può analizzare un'intera canzone in pochissimo tempo e poi restituirci una proposta di come farebbe bene il messaggio. E questo è un'applicazione alla musica, ma secondo me non per sostituire proprio il gesto artistico. E qui veniamo alla domanda per Elia Andrea, ma l'intelligenza artificiale corre davvero tanto, va proprio velocissimo e mese per mese diventa sempre più potente, è utilizzabile, è performante. Ma visto che fa questi passi da gigante, potrà sostituire i musicisti? No, l'intelligenza artificiale, sebbene stia facendo passi da gigante, non sostituirà mai i musicisti. Questo dipende dal principio di casualità, il computer non conosce la casualità, anche i generatori di numeri casuali del computer sono pseudo casuali. L'universo stesso, dopo le scoperte di Einstein, inizio 900, il principio di indeterminazione di Heisenberg, possiamo pensare anche alla psicologia, l'universo stesso è solo probabilisticamente deterministico. C'è un margine di casualità, un margine di caos, un margine di inaspettato. Se noi accettassimo il principio deterministico che regola le macchine, allora toglieremo il principio di libero arbitrio, il principio di volontà dell'essere umano. Pertanto, l'intelligenza artificiale non sostituirà mai i musicisti. Poi dipenderà dal pubblico se l'arte e la musica sono intrattenimento. Allora l'intelligenza artificiale può essere sufficiente a soddisfare la noia e l'appetito per il nuovo. Ma se l'arte è anche originalità, azzardo, inaspettato, una visione nuova, un'interpretazione inaspettata, un pensiero nuovo, il pensiero laterale come lo definiva Brian Inno negli anni 80 ancora, allora il musicista e l'artista in generale sarà indispensabile, non sarà mai ripiazzato dall'intelligenza artificiale. E qui l'opinione di un musicista è davvero importante, soprattutto molto tecnico come Elia, e soprattutto perché si occupa dell'ambito musicale davvero vasto, l'ambito più classico e l'ambito digitale con la musica elettronica. Davvero miglior ospite non ci poteva essere, ma visto che abbiamo iniziato con le domande e abbiamo capito la tua opinione sulla sostituzione dei musicisti, c'è un'altra cosa molto più vasta, secondo me, del mondo artistico e dell'intelligenza artificiale, che vedo spesso far litigare le persone. Ma potrà in breve tempo questa intelligenza artificiale sostituire gli esseri umani ma per creare opere d'arte musicali ma emozionanti? E qui davvero ampliamo il concetto. Rivolterai la domanda verso il marketing, si riuscirà a creare un pubblico per l'intelligenza artificiale? In questo caso la risposta è sì, e non è una bella prospettiva, un pubblico di robot. L'intelligenza artificiale potrà sostituire gli esseri umani nell'inventare opere d'arte musicali emozionanti solo se l'emozione è limitata allo stupore o alla meraviglia tecnologica. Ciò è dovuto alla correttezza dei calcoli che è la perfezione tecnica raggiungibile dal computer. Tuttavia, i compositori che hanno segnato la storia, dopo aver raggiunto la perfezione tecnica mediante un duro apprendistato, sono andati oltre il bagaglio di conoscenze che la contingenza storica forniva loro. Sono stati dei visionari, talvolta così anticipatori dei tempi, da essere trascurati durante la loro stessa vita. Ad esempio, pensa alla celeberrima sinfonia incompiuta di Schubert. che tutti conosciamo, fu eseguita per la prima volta solo 40 anni dopo la morte del compositore. Gli ultimi sviluppi dell'intelligenza artificiale, stable diffusion per il visivo, progetto magenta per la musica, chat GPT per il testo, sebbene ragguardevoli e utili in determinati settori, sono artisticamente insignificanti. Soprattutto nella musica, che è il mio campo, i risultati, quando non sono goffi rudimentali, sono brutti. Diventano utili tuttavia se usati consapevolmente dal compositore nella composizione assistita. Il compositore stimola l'intelligenza artificiale e usa i risultati ottenuti per creare qualcosa di nuovo. Molti software odierni hanno al loro interno parti di intelligenza artificiale che facilitano il compito dei musicisti elettronici. Ray Kurzweil, il pioniere dell'intelligenza artificiale, pur credendo fermamente nella riproducibilità computerizzata della mente umana e dello spirito inteso nella sua personale concezione atero-technologica, ammette che l'opera dell'artista creatore è ciò che più alto si possa fare con la mente umana, perché va oltre in essi causa-effetto. Non dimentichiamoci l'inconscio, la creatività, il pensiero laterale, l'intuito, l'errore come volontà inespressa. Pertanto no, l'intelligenza artificiale non potrà sostituire gli umani nell'inventare o per parte musicamente emozionanti. Opinione più che condivisibile, anche perché secondo me, come ho detto prima, il gesto artistico difficilmente può uscire da un algoritmo, anche se è potentissimo e anche se ogni giorno viene sviluppato per assomigliarci sempre di più, ma credo sarà difficile che riuscirà a eguagliarci nella casualità. In maniera provocatoria rivolterai la domanda. L'intelligenza artificiale potrà sostituire gli umani nel creare opere d'arte per i robot? Sì, certo. Ora resta da vedere quanto gli esseri umani potranno essere spinti ad omologarsi alle macchine. Macchine che fanno musica per esseri umani robotizzati, educati a essere robot. Carino, eh? Quando l'umanità progetta qualcosa per essere perfetta, difficilmente la progetta per fare degli errori, ma magari col tempo qualche programmatore potrà iniziare a pensare di fare l'intelligenza artificiale che si specializzi negli errori. È davvero un campo nuovo ed è difficile spiegarlo completamente, ma dobbiamo immaginare gli algoritmi che lavorano continuamente e si sa mai che si auto-insegnino delle cose, anche perché il machine learning, cioè l'imparare continuamente, è una delle prerogative dell'intelligenza artificiale. Ma poi, se ci pensate, potrà migliorare, ad esempio, gli assistenti virtuali. Parliamo col telefono e tante volte non ci capisce o ci chiede di ripetere. E magari con l'intelligenza artificiale la potremo applicare a quelle cose lì affinché possa capire, magari anche male, quello che diciamo, ma ricostruire le necessità che stiamo esponendo attraverso l'intelligenza artificiale, capendo dove siamo, chi siamo, tutto quello che gli diciamo, magari i rumori di fondo. E non ci dirà più, per favore, ripetti, non ho capito, non ho risposto a questa domanda. Ma siamo attorniati da questi assistenti virtuali, Elia, una battuta su questo. Ma cosa ne pensi? Forse l'intelligenza artificiale potrebbe fornire una risposta migliore. Ok, Google, Alexa, Siri. Con questa battuta dobbiamo salutarci perché il tempo in televisione, ovviamente, è tiranno. Starei qui con voi ancora un bel po', ma vi devo dare appuntamento poi programmi dopo di noi. Non cambiate il canale, giù il telecomando, continuate a seguire l'emittente, ma soprattutto seguite ogni settimana FWG Tech. Io sono Gabriele Gobbo e sono qui ogni sette giorni per spiegarvi nel modo più semplice possibile la tecnologia digitale e il mondo che cambia. Siamo qui ogni settimana alla stessa ora. Potete trovare tantissime puntate sul web fwgtech.it oppure tutti i nostri social, così se volete riguardarle, riascoltarle, oppure guardare quelle che vi siete persi, le trovate tutte online gratuitamente. Per quanto riguarda me, come detto, sono Gabriele Gobbo e vi do appuntamento alla prossima puntata tra una settimana. Arrivederci. FWG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Guarda il programma on demand su web, YouTube, Facebook e tutti i social network. www.fwgtech.it